Bats for Pets produce artigianalmente e vende anche online cucce e cuscini per cani e gatti, teli auto e teli copridivano personalizzabili, realizzati con tessuti di qualità abbinabili ad ogni ambiente. Una linea di prodotti interamente sfoderabili e lavabili a 30 gradi che coniugano praticità e igiene. Approfittate di questa promozione. Kit Cuccia completa più rivestimento cuscino a partire da 80 euro. Regala sogni d'oro al tuo amico a quattro zampe con Bats for Pets. In via Bruno Bozzi 41 a Cadriano, Bologna.